Allora innanzitutto penso che è stata una grandissima opportunità e che appunto ho deciso di cogliere perché mi sembra un ambiente serio, un buon ambiente di lavoro e anche appunto le persone che ci lavorano lo staff mi sembra molto motivato e motivato a fare bene. Sì, sono consapevole appunto di non partire da protagonista, però appunto ho accettato perché innanzitutto mi sembra un buon livello e poi conosco già in parte Parlatini e penso che comunque anche avere l'opportunità di allenarmi con lui, di allenarmi con questa squadra è comunque un'ottima opportunità. Sì, sicuramente è un livello superiore dove allo stesso tempo bisogna anche secondo me metterci qualcosa in più e questo magari mi spronerà anche appunto a cercare di migliorare sotto vari aspetti. Conosco già alcune atlete quali appunto Emma Galbero, Elena Piero Bono, anche in parte anche Jessica Deval e infatti mi sembra anche un bellissimo gruppo e può diventare anche un bel gruppo non solo in campo ma anche fuori. Sì, sicuramente è stato un anno un po' difficile e infatti penso che comunque anche questa opportunità sia molto importante per me anche appunto per un riscatto e cercare di migliorare sotto vari aspetti e cercare di fare al meglio questa stagione. Ho visto appunto alcuni video, alcuni video di tifoserie e mi sembra appunto un bellissimo ambiente anche dal punto di vista dei tifosi quindi sono contenta.